Signore, alleluia, e sappiamo tutti la storia di Anna che era sterile e poi va nel Tempio, fa la preghiera e riceve l'esaudimento. Era sterile, sappi che tutte le impossibilità che hai, tutte le difficoltà che hai, puoi contare su Dio, puoi contare su Dio, che Dio è il Dio dell'impossibile. Era un caso impossibile, Anna era sterile, era impossibile avere figli, soprattutto in quei periodi, già ora, oggi è complicato, è difficile, se non impossibile, ma ancora di più a quei tempi. Qual è la tua situazione, la tua condizione? Che condizione stai vivendo, che tu stai dicendo è impossibile che la mia situazione venga guarita, liberata o trasformata? Pure per Anna, no? Anna, umanamente, era disperata e viveva mortificata, alleluia. Poi vediamo che Anna riceve l'esaudimento. Vabbè lì, Dio, questo tipo di preghiera che ha fatto Anna, le esaudisce sempre, perché sono preghiere che tu stai chiedendo la consacrazione. Sono richieste dove tu ti vuoi consacrare insieme al dono che hai ricevuto e che riceverai. Anna fa un voto di consacrazione a Dio, cioè Dio sa prendere questo tipo di preghiere, fratello, non le rifiuterà mai. Le preghiere dove tu stai dicendo a Dio, Signore, mi voglio consacrare per tutto ciò che mi appartiene. E Dio vedeva che questa donna voleva dare un dono al mondo, perché Samuele fu un dono per Israele, se non per il mondo di allora. Un uomo profeta, profetizzava, un giudice, e ha saputo dare così attraverso il suo servizio pace, alleluia. Quando la tua vita si vuole espandere dinanzi a Dio, vuoi essere un dono, ti senti un dono di Dio, alleluia. Guardate, quant'è importanza in dirsi la giudice di sì, io sono un dono, un dono di Dio, ma un dono per la gente, un dono a cui io parlo, parlo di Dio, parlo di vita. Questa donna voleva dare un dono, è bello quando tu alla società, al mondo, alle persone, ai fratelli, alle sorelle, tu sei un dono e gli vuoi dare un dono. Lei si predispose per dare doni, alleluia, un dono di vita, non è un figlio qualsiasi, alleluia, ma è un qualcosa che doveva essere consacrato a Dio. Se tu mi dai un figlio, dici a Dio, io lo consacro a te, alleluia, me lo dai a me, ma io lo do a te, alleluia. Il tuo servizio te lo dedico interamente a te, alleluia. È questa la tua intenzione stasera di dedicarti a Dio? È questa la tua intenzione stasera di volerti dare, alleluia, no? Quanto è meraviglioso, dire a Dio, dire a Dio significa tutto, stai dicendo un Dio onnipotente, dire a Dio significa tutto, no? Perché è fonte di vita, fonte di pace, fonte di liberazione, cioè non stai parlando con una religione, non stai andando a un pezzo di pietra, di legno, non stai andando, tu stai andando a Dio, lei è andata a Dio, cioè lei ha creduto a Dio, tu mi puoi dare, questa è la benedizione per Anna, che ha creduto che Dio gli poteva risolvere il problema, non pregare, è vero? Non pregare senza fede, ma preghi con la fede, alleluia. Non pregare senza fede, perché devi già credere che Dio ti dà, alleluia. Quello che tu stai chiedendo Dio ti dà, alleluia. Voi a Dio, sì, sì. Perché Dio può, alleluia. Amén. È quello che è già la gioia nel tuo cuore, già lei ha fatto un patto con il Signore, di dire se tu mi dai un patto con Dio, cioè vuol dire che lei credeva, alleluia. Non è andata là a dire se tu vuoi puoi liberarmi, se tu puoi, non lo so se tu puoi, non so se è possibile, non so se può. Non è andata decisa a dire il patto, a stabilire le regole, come se lei avesse già il figlio, gloria a Dio, alleluia. Infatti, il primo punto è proprio il segreto di avere la fede, vedete, questa è quella che mi ha toccato. Aveva due moglie, una di nome Anna e l'altra di nome Pellina, ascoltate. Una di nome Anna e una di nome Pellina. Pellina aveva dei figli e Anna non ne aveva, Anna non ne aveva, alleluia. Cioè, mette in evidenza, Teresarelle, come è la benedizione di Dio che il mondo può partire superiore a noi. Quelli di questo mondo possono partire superiore a noi. Vediamo una pennina incredula, una Anna, madre di un profeta, Anna che andava ad adorare la mente nel Tempio, non aveva, alleluia. Ma tu ti rendi conto che, salutiamo Luigi, Ti rendi conto che cosa di ricchezza hai. Cioè, Anna, con gli occhi spirituali, stava vedendo lei voi ricca. Perché, sorella, se tu hai la fede, anche se momentaneamente è una sfida, non hai niente, quella fede che hai è una ricchezza che ti fa avere tutto, alleluia. Perché il Diceo dice, allora no, che hai? Guarda adesso, io ho un po' di olio, e allora hai tutto, dice il Diceo. Allora hai tutto. Non devi vedere se sei debole, non devi vedere se sei povero, non devi vedere se hai il problema. Una cosa devi vedere, e devi vedere la vittoria, se hai fede, alleluia. Tu non ti devi preoccupare, magari non hai proprio niente, alleluia. Stai nella carestia più totale, stai in un problema di difficoltà, stai in un pericolo di difficoltà, ma hai la fede, hai tutto. Perché, ragazzi, chi ha cinque figli, per dire lì il contesto, o ha tutto, e poi non ha la fede, e avrà la discesa. Ma mentre Anna con la fede ha avuto la salita, sempre di più. Perché, ragazzi, chi ha, anche il corso materiale, tutto perde, tutto viene meno. La fede, tu la puoi conservare, e la fede cresce, sempre di più, è una ricchezza, sempre di più. La fede che tu hai, e tu devi ringraziare Dio, che ti ha dato fede, alleluia. Devi ringraziare Dio, che hai, una proprietà, un elemento, che il mondo non ha. Devi ringraziare, che con la tua fede, che Dio ti ha dato, tu puoi schiacciare i demoni. Con la fede che Dio ti ha dato, tu puoi vincere malattie. Con la fede che Dio ti ha dato, tu puoi vincere la carestia. Con la fede che Dio ti ha dato, tu puoi vincere tu. Con la fede, alleluia. Fatti avere questa fede. Ricevi questa fede. Prendi questa fede, alleluia. Prendi questa fede, e manifesta questa fede. Metti questa fede. Metti questa fede, anche se non hai niente. Ma tu hai la fede. E la fede ti fa ottenere tutto. La fede ti fa trasformare le situazioni, le condizioni di quello che tu hai. La fede, alleluia. Questa è quella che devi ricercare. È quello che devi avere. Quello che devi curare. Quello che tu ti devi preoccupare di avere, è avere la fede. Perché Anna non aveva le cose materiali. Ma Anna era una donna che nel cui cuore, nella cui anima, vi era la fede. Alleluia. Se in te hai la fede. Davide non si preoccupava di vedere il gigante, non si preoccupava di vedere la forza. Davide ha detto, a me non mi importa che sei un gigante. Non mi importa che hai il lancio, il giavellotto e scuda. Ma a me importa quello che io ho. Perché Davide ha detto, io so quello che io ho. Io so in chi ho creduto. Io so che venga a te nel nome del Dio. Io so che ho la fede in Lui. Io so che muoverò l'impossibile. Io so che l'impossibile si muoverà. L'Idio dirà l'impossibile. Io so, alleluia, che tutto ciò che tu hai, la forza umana, tutto ciò che tu sei, rispetto a me, dice Davide, che ho la fede in Dio, tu andrai a terra e la tua carne andrai al cielo e agli animali della terra. Perché quello che io ho, stavo dicendo Davide, è molto al di là di quello che tu hai. Il mondo, il nemico, può avere forza, armato, un esercito. Dice Davide, quando un esercito si accampasse contro me, quando la guerra si accampasse contro me, essi stessi vacilleranno e cadranno. Capisci io? Quando tu hai la fede, non c'è montagna, non c'è problema, non c'è carestia, non c'è difficoltà che può reggere dinanzi a te, dinanzi alla tua vita, perché tu hai la ricchezza della ricchezza, la fede in Gesù. Perché Giovanni dice chi vince il mondo è la fede in Cristo e preoccupati di avere fede e preoccupati di esaminare nel tuo cuore se hai fede e preoccupati di far crescere la fede e preoccupati di dire io voglio la fede, alleluia, la fede che mi dà vittoria, alleluia, la fede, alleluia, gloria al Signore. Quella fede che tu hai è una fede che smonta ogni cosa e quando avrai la fede e quando tu la metti la fede e la eserciti la fede e stasera esercita la tua fede, esercitiamo la nostra fede, alleluia, perché non sarà né per forza né per potenza ma la fede che farà esercitare la potenza di Dio e noi diremo come ha detto Gesù anche se abbiamo una fede con granel di senape diremo al monte spostati e adesso ci ubbidirebbe, alleluia, e vedi come Anna poi con la fede superò Pennina e tu vedrai che non avrai nulla a cui invidiare, non avrai nulla che tu e il tuo Padre Celeste ti dà e ti può dare perché ti devi arricchire e devi avere, devi cercare, devi, non fare falsi umili, ah ma io mi accondendo, ma io nella miseria, nella povertà voglio stare con di, no, devi ottenere, no, devi avere abbondanza, dice il Signore io sono perdato una vita in abbondanza, non ti devi accontentare, non esiste questo per, il cristianesco vive nell'abbondanza, perché dirgli Dio dell'abbondanza, tu devi avere l'abbondanza, alleluia, dirgli Dio dell'abbondanza, alleluia, tu devi ricercare con la fede, tu devi mettere la fede, devi fare aprire le catenate nel cielo e devi far scendere la benedizione, devi far scendere la salute, devi far scendere le benedizioni, devi far scendere il servizio, devi far scendere la grazia di Dio, devi far scendere l'impossibile, devi far scendere la salute, devi far scendere nel nome di Gesù, scendere stasera stessa, ogni soluzione a quel problema, quella difficoltà che ti tormenta, perché Anna non ha permesso più a Pennina di farla tormentare, quella fede che Dio ti ha dato è la chiave di vittoria per la tua vita, quella fede che Dio ti ha dato è la chiave della trasformazione della tua vita, quella fede che Dio ti ha dato è mettila stasera in circo quella fede, stendi quella fede, stendi quel bastone, apri il mare dinanzi a te, quei te nemici siano inabissati, che Dio operi, che Dio intervenga per mezzo della fede, che Dio ti ha donato il dono di Dio, la fede, e Dio vuole benedire la tua vita, e Dio vuole far grazie la tua vita, e Dio vuole benedire la tua vita, e stasera prendi questa benedizione, e metti la fede, metti uno sguardo di fede a Gesù Cristo, e vedrai la tua situazione cambiata totalmente come Anna, Anna si abbondò, non vedere quello che tu ora non hai, non vedere quello che i nemici hanno e tu non hai, ma che tu puoi avere grandi benedizioni e grande risorse, da parte di un Dio pieno di risorse, alleluia, alleluia, gloria a Dio, la sera avremo, perché metteremo fede, grazie a Dio, Dio dona fede, alleluia. Secondo, vive in un contesto di una famiglia senza discernimento, ma che lei capisce, il suo marito, il cana, ogni anno, dice, sale lì, per fila, no? Per poter adorare a Dio, dove c'è l'H.D. del Signore, offrire, dove c'erano i figli, gli offni, i fineassi, i sacerdoti del Signore, alleluia, e le sorelle, ma ci rendiamo conto questo uomo, va al culto, che culto va? Che non si manifestava a Dio, la parola di Dio era rara, non c'era la benedizione di Dio, c'era l'ire di Dio, l'inimicizia di Dio, questo uomo dice, oh, ma va adorare a Dio, o va a vedere lo spettacolo lì, sopra il sila, dove c'era l'arc, dove c'era, ecco, tutte le cose che mangiavano, poi bevevano, faceva regali, ti piace la presenza di Dio, ti piace che Dio ti deve toccare, ti deve rimbiro, ti piace solo il giusto per, giusto per far vedere che sto al culto, guardi in chiesa, giusto perché molti vanno come il cana, vuoto andare, ma Dio non parlava, Dio non benediceva, perché erano sviati, che sacerdoti erano qui, erano sviati, egli era lo stesso, lo stesso uomo, non stavano onorando Dio, Dio anzi ha fatto giudizio, hanno perso l'arca di Dio, hanno perso le battaglie, era un contesto di sviamento, alleluia, non dire vado, penso che se sei qui è perché senti la presenza di Dio, vuoi sentire la presenza di Dio perché Dio si manifesta, ma non puoi tu non aver discernimento in una diretta, in una situazione dove vai o dove vanno molti e non hanno tocca, Dio non parla, Dio non benedice, non c'è Dio, non c'è la benedizione del Signore, vuoto entrano e vuoto e escono, ma tu stasera non devi fare come Elcana, no? Di stare, è giusto partecipare, giusto perché c'è il mio nome, no stasera tu sei qui per adorare veramente il Signore, e sei qui per avere il tocco di Dio, e sei qui per avere la benedizione di Dio, sei qui per incontrarti con Dio, sei qui perché tu ti devi riempire, alla fine di poter dire ho incontrato Dio, veramente adorare, è una falsità di Elcana, di Pennina, ma Anna non sopportava più questa falsità, alleluia, eh, Dio si deve manifestare, perché Dio è un Dio che si manifesta, che tocca, che lì, che benedice, Anna non sopportava più questa falsità, questo marito che non ha di scendimento, che là si mette a dare i regali, e ogni, e dice ogni anno veniva molti più, cioè non lo faceva così, dava l'occasione il marito a Pennina di, di, di insultare Anna, viene questo, quando viene piena di donne a lei e ai figli, e Anna era sola, la prendeva in giro, la derideva, ma solo quando andavano lì, soprattutto, quando questo uomo senza discernimento, se c'è la presenza di Dio, non c'è la presenza di Dio, se rende lì, se non rende lì, ma vuoi vivere con la pace, e vuoi avere un po' di discernimento, saper dire le cose al momento giusto, saper fare le cose, era il momento lì, che era il momento di ricevere e di vivere in pace, ma vogliamo vivere in pace, vuoi vivere in pace con la tua casa, vuoi vivere in pace con te stessa, vuoi vivere in pace con Dio, vuoi avere discernimento, alleluia, e che le scende di quello, ma anche Anna si è pentita di dire al marito prendi un'altra moglie, perché Anna era la prima moglie, ma si usava, no? Che quando uno era a stersi, come i figli, destavano la famiglia come una ricchezza, Anna spinse il cane a prendersi pennina, per dire, così abbiamo dei figli, io non te le posso dare, te ne darà lei, ma a chi stai passando la palla, che Dio ti ha chiamata a te, a chi stai passando il frutto, quando Dio ha chiamato a te, Dio a te, come l'ha avuto loro, la poteva prendere prima, e non spingere il marito ad un'altra, non spingere a farti mortificare, e, anche più delle volte, le stesse con le scelte sbagliate, o con la pigrizia, o col dire, siano gli altri, no, sei tu, Dio a te vuoi usare, Anna sei tu, Anna sei tu, Anna sei tu, Anna sei tu che devi essere usata, ti devi fare risposta, essere usata da Dio, Dio vuole benedire te, vuole benedire la tua vita, Dio di te si vuole usare, e tu devi far sgorgare la tua vita attraverso di te, devi far sgorgare il frutto attraverso di te, devi dare, alleluia, devi dare, costi qualche cosa, sacrificati, metti fede, ogni cosa, ma tu devi dare, alleluia, non devi dire Pennina deve dare, no, perché poi Pennina ti criticherà, ti mortificherà, perché Pennina poi avrà la meglio sopra di te, il diavolo ti insulterà, gli altri ti insulteranno, no, ma Dio vuole, sei tu, a dire manda me, sei tu, a voler prendere benedizione, per favore, sorella non delegare agli altri, non ti tirare indietro alla chiamata a cui Dio ti ha chiamato, tu hai un ruolo, è una che è Dio che ti sta chiamando stasera, è un Dio che sta dicendo io voglio proprio te, voglio il tuo cuore, la tua vita, io voglio te, non ti tirare indietro, non essere nell'incredulità, non fare l'errore, come ha anche fatto Sara, di dare agarra a Abramo, no, porterai conseguenze, la chiamata è tua, a te, il maestro è qui e ti chiama, ti chiama a staccarti da tante cose, al mondo, per inserirti nella chiamata di Dio, nella benedizione, se stai fuori dalla chiamata sarai nell'afflizione, fuori dalla chiamata c'è mortificazione, fuori dalla chiamata, ma nella chiamata tu avrai benedizione, nella chiamata avrai pace, meraviglie, benedizione, la gioia, vivrai per dare, vivrai, nessuno potrà dire dov'è il tuo Dio, ma tu potrai dire che Dio produce in me il volere e l'operare, benedizioni abbondanti attraverso di te, in te, nella tua casa, scenderanno, vai a trovare la soluzione in Dio, la vera amarezza, i veri problemi, le vere difficoltà, ti devono fare andare alla presenza del Signore, come Anna disse, basta essere ipocrita, basta salire qui in un contesto dove si fa tutto a falsità, facevano il culto solo come formalismo, portavano i sacrifici, ma Dio non accoglieva niente, voglio vedere dal contesto che erano cose che non davano a Dio, ma loro stessi consumavano, Dio non accettava, Dio non benediceva, ma Anna ha detto io voglio benedizioni, voglio incontrare con Dio, lei veramente entra nel tempio, lei veramente va lì, lei veramente va a aprire il cuore, lei veramente va a incontrare Dio, lei va a piangere a Dio di lotte, lei va a mettere il peso a Dio, stasera sei qui, ma c'è Dio presente nella tua vita, al Dio puoi dire, a dire, alleluia, puoi dire addio, Signore, metto questo peso, questa amarezza, Signore non voglio vivere, alleluia, è gloria a Dio, è gloria a Dio, come Dio esaudisce le buone cose, come Dio esaudisce e gloria al Signore, alleluia, e puoi andare a Dio a mettere questo peso, puoi andare a Dio a mettere questa diva, puoi andare a Dio, la tua amarezza, la tua difficoltà, puoi andare a Dio a fare un patto con Dio, puoi andare a Dio, puoi venire a Dio, puoi venire ad aprire il cuore, alleluia, puoi andare a Dio, a Dio, puoi esaudire quello che ti sta amareggiando, quello che ti sta preoccupando, quello che ti può avvelenare, quello che ti può portare ad essere insultato, quello che ti può portare alla sofferenza, ciò che tu non hai, ciò che tu non puoi avere, ciò che tu puoi avere con la fede andando al Signore, il Signore ti esaudisce, il Signore è colui che ti vuole esaudire, il Signore è colui che ti vuole benedire, il Signore è colui che ti vuole riempire, alleluia, metti fede, decisione, di fare un patto di consacrazione al Signore, alleluia, e accetterà Dio, il patto di consacrazione, accoglierà la tua richiesta, sì che l'accoglierà il Signore, è una richiesta di mantenere le promesse, come ha mantenuto, ecco qui, alleluia, mantenuto e Dio vuole mantenere anche per te, alleluia. tu sei pronta a mantenere le promesse, come Anna, Anna fece un patto e lo seguì quel patto, Anna disse mi dai un figlio maschio, lo consacra, dice che fu presa in giro da proprio dal sommo sacerdote, la idea che lei parlava, parlava e l'ha presa per un ubriaca, e gli dice va a smaltire la tua ubriachezza, il mondo ti prenderà come un ubriaca, come stordi, questi vaneggiano, quando tu fai le richieste e parli loro della vita, parli loro che Dio mi esaudisce, ci prendono a vol per pazzi, sono increduli, non credono, perché, alleluia, ma poi questo rimase meravigliato, perché troverai quelli che ti prenderanno per pazzi inizialmente, ma poi questo rimase meravigliato, così tu puoi rimanere, vedere le persone che ti vedono parlare con fe, e no, io ho chiesto un figlio a Dio, e Dio mi ha esaudito, io so che Dio mi ha esaudito, perché Anna si unì al marito e rimase incinta, alleluia, era sterile, perché Anna mise fede, alleluia, alla fedeltà del Signore e alla benedizione di Dio, alla bontà di Dio, Dio è buono, alleluia. Ricordati, tutti i doni che Dio ti dà, se ti faranno consacrare, tu li avrai, alleluia, ma Dio non ti darà la pietra, ciò che ti farà consacrare, ma tutto ciò che ti farà consacrare, Dio sapeva, dando Samuele, Anna, Anna si sarebbe consacrata di più, Anna avrebbe divezzato, perché Anna qui dice che lo diede quando lo divezzò, lo ebbe divezzato, lo condusse nella casa del Signore, alleluia. Lei prima testimoniò, andò a testimoniare a Eri, io sono quella donna, e tu hai preso per ubriaca, io sono quella donna. O sì, tu potrai dire, mi avete preso per folle, mi avete preso per una donna da nulla, per va smaltire, e poi quando vedranno te col frutto, quando vedranno te che stai dando al mondo un dono, stai dando al mondo una benedizione, alleluia, e quando vedranno che tu stai dando la grazia di Dio sopra di te, e quello lo vide, la benedizione del Signore, alleluia, testimoni, non ti preoccuparti di quello che pensa la gente, ma poi lo vedranno con i frutti, con la benedizione, alleluia, vedrai l'effetto della tua fede, l'effetto della tua fede, alleluia, vedrai che quell'amarezza se ne andrà, vedrai che quel peso tu lo metterai a Dio, vedrai la vera soluzione quando tu stai a Dio, e non te lo trattieni per te il peso, e non te lo trattieni nel tuo cuore, e non te lo combatti carnalmente con pennina, e non te vuoi fare le battaglie con la carne, uscendo la carne, sfidando, odio per odio, spada per spada, dente per dente, occhio per occhio, non funziona così, quella è la legge, ma la grazia del Signore è andare a colui che ha detto venite a me, non solo vi do riposo, ma io sono la vostra giustizia, hanno avuto giustizia dal Signore, perché pennina la insultava, ma tu sarai nella vittoria, nella benedizione più totale, e questo è quello che tu potrai fare, testimoniare della grazia del Signore, alleluia, vuoi testimoniare delle meraviglie di Dio, che Dio è il Dio di ogni benedizione, vuoi tu stare con Dio, vuoi tu stare e creare una vita di benedizione, di dare il frutto, essere utile, vuoi dire stasera io voglio essere utile per Dio, vuoi dire stasera io voglio essere utile, vuoi dire stasera io voglio portare il frutto, vuoi dire stasera la mia vita sia una vita di frutto, pronta a divezzare, lo divezzò, lo divezzò, lo condusse, mantenne la promessa, se hai detto a Dio mi consacchi, consacchi veramente, se hai detto a Dio io la mia casa serve a te, serviti insieme alla tua casa, alleluia, testimonia, alleluia, il Signore vive, il Signore, vedete il cantico, il cuore mio esulta nel Signore, il Signore ha alzato la mia potenza, la mia bocca apre contro i miei nemici, perché gioisco nella vittoria, nessuno è come il Signore, alleluia, poiché non c'è altro Dio di fuori di te, non c'è rocca pari al nostro Dio, non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza della vostra bocca, perché il Signore è un Dio che sa tutto, da Lui sono pesate le azioni, l'arco dei potenti è spezzato e vacillano, alleluia, la sterile partorisce sette volte, ma la donna che aveva figli diventa fiacca, il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere i soggiorni morti e fa risalire, il Signore fa impoverire e fa enricchire, Egli a base in alza, Egli alza il misero dalla polvere e fa i reti della sua gloria per le colonne della terra del Signore su quanto appoggiato il mondo, veglierà sui fedeli, gli avversari del Signore saranno frantumati, Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli e periranno i liempi nelle tenebre, infatti l'uomo non trionferà per la sua forza, ma per la confidenza nel Signore Dio Onnipotente. Quando tu mantieni le promesse e dai a Dio, Dio ti dà poi di più, ti dà un servizio abbondante, cinque figli ancora, sei, venino cinque, lei sei. Vedete come Dio ci dà vittoria, non per sfida carnale, ma gli ha dato abbondanza di servizio, e tu potrai essere utile nel Signore avendo abbondanza di servizio, non solo figli naturali, tu potrai avere cura per le anime, potrai testimoniare di Dio, tu sarai una testimonianza vivente, è una testimonianza da dove la tua vita era morta, la tua situazione era morta, dove avevi disperazione, stavi nell'avvelimento, amarezza, eri in una prigione, eri in un'angoscia, eri toccata dalla prigione, toccata dall'amarezza, l'afflizione, non sapevi come uscirne, non sapevi da quella situazione, vivevo in un ambiente di famiglia, un ambiente di famiglia di competizione, di rivalità, era mortificante vivere, la vita di Anna era mortificante, ma Dio la mutò in un canto di gioia, di trasformazione, la tua amarezza, i tuoi pesi, vieni al Signore, tutto ciò che hai, che ti aggrava il cuore, tutto ciò che preoccupa il tuo cuore, tutto ciò che ti fa cadere in disperazione, tutto ciò che il diavolo ti fa vedere, non c'è la via di uscita, tutto ciò che il diavolo dice, per te non c'è via di uscita, tutto ciò che il diavolo ti mette dei brutti pensieri in testa, ti mette dell'afflizione nel cuore, ti fa vedere già la tua vita afflitta, toccata, aggredita, la tua vita senza soluzione, stasera lo sai la tua soluzione, stasera sai che puoi andare a Dio, puoi fare le richieste, puoi mettere fede, e lì Dio tre volte santo, fedele, onnipotente, cambierà, salterà di gioia, di benedizione, gli avversari non potranno più accusarti, gli avversari non potranno più dirti nulla, perché saranno svergognati quando vedranno l'abbondanza che il Signore ti ha dato, quando vedranno la benedizione su di te, quando vedranno, rimarranno ciò che Dio ha fatto per te, la tua fede, dice il Signore ti ha salvato, e stavo dicendo Anna, la tua fede, sorella, stasera stessa, la tua fede, chi è quella situazione che ti sta affliggendo, e ti sta mortificando, quella situazione che ti mette paura, ti incute paura, per il futuro, per quello che potrai affrontare, qual è? Alleluia, stasera tu vedrai la gioia entrare in te, la certezza, ce l'hai la fede, se non cercala, ma se ce l'hai, usala, alleluia, usala, e la tua ricche, con la fede puoi comprare tutto, con la fede puoi cambiare tutto, do tutto, vedete il Signore, vince il mondo, alleluia, e vedi ancora Pennina tu, e vedi il mondo, di che coppa, le cose materiali, vedi il mondo, di che cosa, il mondo non ha ciò che tu hai, tu sei figlio di luce, figlio di luce, tu hai il potere, è un potere, nell'universo, è sposta, non è il danaro che sposta le montagne, non è il danaro che guarisce, non è il danaro che dà la gioia, non è il danaro che dà l'amore, non è il danaro, non sono il potere umano, non sono i carri, i cavalli, ma è la fede in Cristo Gesù, beato chi ha fede, ha detto il Signore, beato chi crede, e beato chi mette fede, alleluia, la fede in Cristo Gesù, ti fa avere vittoria, stasera vedrai la vittoria, nulla ti accadrà, di quello che il nemico, ti ha messo nella mente, i pensieri brutti, che ti sta mettendo, nulla ti accadrà, perché la fede, la tua fede ti salva, la tua fede di solito bene, la tua fede, alleluia, la tua fede, alleluia, gloria al nome di Dio, la tua fede, alleluia, metti fede, non sarai più tormentato, dalla situazione, dalla malattia, dalla difficoltà, dalla penuria, dai bisogni, metti fede, alleluia, alla gloria di Dio, meraviglioso sei, alleluia, mettiamo fede Dio, mettiamo fede, per ogni situazione, di ogni sorella, di ogni fratello, mettiamo fede stasera, mettiamo fede, fede in te, abbiamo quella fede, grazie a te Dio, grazie al dono che tu ci hai dato, grazie a quello che tu ci hai dato, la fede, alleluia, sei grande Dio, che ci hai fatto questo dono meraviglioso della fede, quando non abbiamo nulla come Anna, per la fede Anna si trova con i suoi figli, per la fede si trova a svergognare i suoi nemici, per la fede si trova a avere la consacrazione, per la fede si trova a essere mamma di un profeta meraviglioso, che ha portato vita, ha portato la parola di Dio, che dipendeva Israele da Samuele, Samuele consacrato, lei l'ha dato veramente al Signore, lei l'ha consacrato veramente al Signore, lei si è consacrata veramente a Dio, lei ha mantenuto il patto, mantieni il patto con Dio, mantieni, servi Dio, ciò che hai detto a Dio, ciò che è promesso al Signore, non ti staccare da Dio, non ti staccare le promesse, non ricorrere alla flizione di nuovo, non ricorrere alla malezza di nuovo, non ti tirare in Dio, non andare più in quell'ambiente, dove c'è pennina, dove c'è il mondo, c'è la carne, dove c'è la sfida, c'è la rivalità, non andare più in quel mondo, in quell'ambiente, ma rimani nell'ambiente divino, della fede, a camminare sulle acque con la fede, quei problemi con la fede, con la benedizione di Dio, cammina, cammina, cammina per fede, alleluia, cammina, nel nome di Gesù, Gidalaia, meraviglioso, meraviglioso, a te la lode,